Buongiorno e ben ritrovati ad Occhio ai Giornali. È l'edizione di questo martedì 22 ottobre come consuetudine. La apriamo occupandoci del Santo del Giorno. Si celebra oggi San Giovanni Paolo II e tutti hanno chiaramente presente di chi si tratti. La sua canonizzazione risale al 2014. Il sole sorge oggi alle 7.37. Il tramonto è fissato per le 18.13. Uno sguardo adesso al mezzo. E la grafica racconta di un'altra giornata prevalentemente nuvolosa con nubi anche basse in particolare in mattinata. Non mancherà qualche squarcio di sole. Trendo invece alle temperature valori ancora una volta stabili con le massime. Attestate intorno ai 20 gradi. E adesso le notizie del giorno. Quelle che troviamo questa mattina sui quotidiani locali. Cominciamo con le conseguenze del maltempo che si è abbattuto sabato con violenza sul territorio. Sul Corriere Adriatico ancora una volta focus su Fano Sud. Allagamenti. La priorità è Fano Sud. Opere con gli 8 milioni di figliuolo. L'assessore ai lavori pubblici Lari convoca una riunione per una nuova infrastruttura per via Pisacane. Progetto in corso. Ci si occupa dunque delle situazioni che ancora una volta si sono manifestate come le più critiche. assieme a quella dell'Arzilla nell'ultimo weekend. Per la prossima settimana convocata appunto una riunione operativa. Si legge all'interno dell'articolo in cui è il sindaco Serfilippi ad entrare nel dettaglio di quanto dovrebbe essere realizzato con gli 8 milioni destinati dal commissario post alluvione per Emilia Romagna, Marche e Toscana. In particolare si legge verrà costruito un nuovo fossato che raccolga i flussi di acqua da monte ora non più sostenibili per l'attuale rete idraulica. Necessaria poi una vasca di laminazione per regolare la portata delle precipitazioni cadute a terra e bisogna ampliare anche i fossati esistenti, aggiunge ancora il sindaco. Prevedibile in questo senso che occorrano ulteriori risorse quanto invece alle ricorrenti criticità registrate in via Pisacane. Anche in questo caso, prosegue il sindaco, si può attingere alle somme finanziate dal commissario straordinario pari esattamente a 7 milioni e 700 mila euro per potenziare la rete idraulica locale con il collettore. Venendo invece all'Arzilla, qui come noto i rimedi indicati negli anni non sono stati ancora attuati, l'assessore ai lavori pubblici Ilari si limita a constatare come nell'ultimo weekend il corso d'acqua abbia traccimato verso la zona della selva dove fortunatamente è presente un bacino d'espansione per le piene. Delle conseguenze del maltempo il Corriere Adriatico si occupa anche riguardo a Pesaro dove si fa i conti anche oggi con la chiusura parziale del cavalcaferrovia sulla statale in buto sull'Adriatica. Cavalcavia riaperto ma solo in direzione Fano. È quanto avvenuto nella giornata di ieri, presto un semaforo per il senso unico alternato, molte le strade nel capoluogo ancora impraticabili. Fa il punto della situazione riguardo allo stato del cavalcaferrovia, proprio il sindaco Biancani, i tecnici stanno valutando la situazione, non c'è ancora una valutazione finale, dice lo stesso sindaco assieme all'assessora della Dora. Per questo sono inevitabilmente incerti i tempi di ripristino della frana. Riparte nel frattempo l'intervento in strada a Borgeria a Villa San Martino. Difficoltà vengono denunciate in particolare in via Recchi, slalom tra le pozze per riprendere i bambini a scuola, ristagni di pioggia che complicano la vita ai genitori dei bambini della scuola Rodari e c'è chi avanza timori anche per la diffusione della dengue. Ovviamente i ristagni d'acqua sono terreno fertile per le zanzare tigre. Ancora una volta si ripropone anche il problema del campo scuola di via Respighi che provoca danni alle case, lamentano i residenti che invocano soluzioni per il momento rinunciando all'ipotesi di chiedere risarcimento. Il problema è che l'impianto non drena, la pioggia che è caduta e così erode il muro perimentrale. Quanto invece a Marotta è sempre in relazione alle precipitazioni abbondanti di sabato scorso, alza la voce il consigliere comunale di opposizione Bonaccorsi, candidato sindaco per il centro-sinistra alle ultime elezioni, tappo nel collettore e Marotta va sott'acqua. I problemi che si sono verificati a Marotta Nord in particolare vengono ricondotti dallo stesso Bonaccorsi al fatto che lo scarico a mare di via Chienti fosse chiuso da grossi blocchi di cemento. La regione aveva diramato l'allarme già da venerdì. Perché non ci si è attivati prima? Si chiede lo stesso Bonaccorsi riguardo appunto al problema che ha in qualche modo incigantito gli effetti delle precipitazioni. Venendo invece agli altri temi e dal resto del Carlino, quelli trattati nelle pagine fanesi, focus sul piano urbano del traffico. Nei giorni scorsi è ufficializzato l'affidamento dell'incarico ad una società specializzata di Padova. Nell'occasione fornite alcune indicazioni su quelle che saranno le linee guida del piano. Piano del traffico indietro tutta. Va in soffitta il test di via Trave. Tra i provvedimenti già anticipati dal sindaco Sefilippi e dall'assessore alla viabilità Cursi, l'eliminazione delle misure che la precedente amministrazione in particolare con la presenza dell'assessore Atonelli aveva adottato. La giunta archivia la sperimentazione. Ora occhi puntati su via dell'Abbazia, via Roma e viale Mariotti. Considerate altre situazioni meritevoli di priorità. In particolare lungo via Trave rimarrà soltanto il limite dei 30 accanto all'attraversamento pedonale rialzato. Fano deve diventare una città sicura per pedoni, ciclisti e automobilisti. Al momento non lo è. Hanno sottolineato Ser Filippi e Cursi che hanno manifestato l'idea di puntare sulle ciclabili come avevano già fatto anche in passato ma senza sacrificare parcheggi. Laddove è necessario spazio ai sensi unici proprio per ricavare lo spazio necessario per la realizzazione di percorsi protetti. Poi la politica e le conseguenze della presa di posizione molto dura del consigliere comunale del PD Magalotti che è anche primario della Brest Unit. Ieri la lunga intervista al Carlino un autentico sfogo che provoca ripercussioni all'interno del PD. Caso Magalotti bufera PD una fronda contro Minardi, segretario comunale dei Democrat. Le parole del primario agitano e i dem. Il segretario ribatte. Quelli che oggi mi accusano si erano già voluti defilare. E tra gli accusatori ancora una volta in primo piano Enrico Nicolelli già consigliere comunale che invoca una decisione sul proseguo del mandato di Magalotti in consiglio comunale. Magalotti che ha disertato le ultime sedute. Non può essere una figura di rappresentanza del PD secondo Nicolelli che rileva come si sapesse che lo stesso Magalotti, questo all'epoca in cui è stato designato quale candidato al consiglio comunale non era uomo di sinistra. Parla anche l'ex segretario comunale Bacchiocchi che definisce il PD locale un partito senza identità incentrato su poche persone che si sono viste costrette a candidare nomi di alto livello per portare voti. Riportata anche una frase emblematica dello stesso Magalotti dell'intervista di ieri al Carlino. Mi sembra di stare nella Calabria di Cetto, la qualunque e mi sono adeguato. Tornando al Corriere Ariatico e alle pagine fanesi, spazio anche al no pronunciato dall'amministrazione comunale di fronte alla richiesta di realizzare un impianto di accumulo energetico a Carrara deturpa il paesaggio, cancella i campi. Questo è uno dei passi del parere fornito dal Comune di fronte al progetto presentato dalla società BES. Convoglierebbe verso la centrale elettrica la produzione delle fonti rinnovabili, questo l'obiettivo dell'impianto. Alla richiesta l'assessore all'ambiente Manocchi ha fatto presente come si tratti di un territorio già penalizzato, che non può sopportare ulteriori aggravi per quello che riguarda l'accumulo di energia. Sulla Corriere Adriatico ha anche il punto sulle nuove disinfestazioni anti-zanzara tigre. Nelle due notti passate ci si è concentrati sulle aree in cui insistono i plessi scolastici. Durante la prossima, sempre da mezzanotte, alle 5, mezzi e uomini in azione nei cimiteri, nelle scuole e nei cimiteri, disinfestazioni settimanali, ricorda il Corriere Adriatico riguardo appunto alla periodicità di questi interventi. Intanto di fronte appunto all'illustrazione del piano antideng del Comune su Input del Gores si fa anche il punto sui casi che restano 196 confermati, 136. Sempre sul Corriere Adriatico la questione della caserma Paolini, come noto in chiusura del mandato della Giunta Seri, il sindaco e l'assessora del patrimonio all'epoca Cucchiarini avevano ufficializzato l'acquisizione gratuita dal De Magno e illustrato un piano di intervento, quello relativo alla palazzina Comando, che è poi la parte che verrà acquisita dalla Comune, che richiede un impegno da 8 milioni di euro. La questione è sbarcata in Consiglio Comunale dopo che già era rimbalzata sui quotidiani nelle settimane scorse ed è stata occasione per un confronto aspro tra la stessa Cucchiarini e l'assessore Santorelli, caserma, si cercano fondi per ristrutturare la palazzina Comando al centro del confronto, appunto l'impegno finanziario pesante, qui si dovrà sottoporre il Comune, 8 milioni da reperire tra avanzo di amministrazione, mutui e anche alienazioni. Per la Cucchiarini, invece, la centralità dell'operazione val bene quegli 8 milioni che servono per adeguare la palazzina Comando e adibirla ad uffici pubblici. Sempre sul Corriere Adriatico, anche l'inaugurazione dell'erogatore di acqua potabile al liceo scientifico Torelli, acqua che fornita dall'acquedotto risulta migliore di quella che troviamo nei supermercati all'interno delle bottigliette. Questa è la tesi che è stata illustrata, in particolare dal Presidente di Aset Mattioli, in sede di inaugurazione, un intervento che è parallelo ad uno studio condotto dagli studenti della Quinta A del liceo Torelli, che come gli altri dell'istituto potranno ora servirsi presso l'erogatore collegato direttamente all'acquedotto. Venendo ora ai temi trattati nelle pagine pesaresi, spazio in particolare alla cronaca, quanto accaduto ieri mattina in piazzale Matteotti, la minaccia con il coltello e la violenta, orrore in centro, trentenne arrestato, una donna detta alle pulizie aggredita alle 5 del mattino mentre andava al lavoro, l'uomo è stato preso dai carabinieri, il giovane aveva trascinato la donna dietro un chiosco, lei si è salvata urlando. Qualcuno dalle finestre circostanti ha sentito chiedere aiuto e ha allertato la pattuglia dei carabinieri che è intervenuta prontamente sul posto e ha bloccato il tentativo di fuga attuato dal bengalese. Si tratta di un richiedente asilo, scrive ancora il resto del Carlino e chi lo conosce dice se si tratti di una brava persona. Le reazioni dei commercianti che lavorano in zona, sentimenti divisi tra paura e fiducia, qui ci sono telecamere ovunque, questo naturalmente rassicura, i titolari dei chioschi hanno subito notato il diavai di forze dell'ordine fin dal primo mattino, una di loro spiega abbiamo trovato la porta del bagno aperta, gli inquirenti hanno cercato tracce anche lì, la situazione viene definita molto più grave negli anni scorsi, adesso invece è nettamente migliorata. E a margine un altro episodio che ha portato ad una denuncia, quella che è stata asporta da una cameriera che si è vista allungare le mani da un avventore in un bar di via Ponchielli. Sempre per quello che riguarda la crona che il resto del Carlino informa delle ore d'angoscia per Roberto De Iulis, ex portiere della Vispesaro, malore in casa nella notte è grave, l'allarme è dato dai colleghi di lavoro, l'uomo è stato soccorso per primo dal vicino ed amico Valerio Varani, il messaggio di Ortoli, capitano della squadra promossa in C1. Siamo sconvolti ma sei forti e ce la farai ad aggravare la situazione e il fatto che nel momento in cui lo ha accusato De Iulis fosse solo in casa, la figlia che vive con lui aveva trascorso la notte altrove. Pesarois è intanto raccolta ieri intorno alla famiglia di Davide Perugini, l'edicolante di Piazzale Matteotti figura molto nota anche per la sua passione per il basket. Davide, l'addio del papà, era speciale, non mi abbandonerà, ha detto l'uomo in occasione delle esegue. Il suo chiosco, viene ricordato, era una finestra sul mondo, sulla bara le sciarpe dell'inferno bianco-rosso. Ancora cronaca d'arresto del Carlino e tre assalti ad un distributore di bibite che si sono registrati negli ultimi giorni, un assalto dietro l'altro, tre in una settimana al distributore di bibite, un ladro di circa 30 anni è quello che emerge dalle immagini fissate dalla videosorveglianza, quello che ha operato appunto lungo via Rossi. E intanto a livello statistico si registra un aumento dei furti nelle abitazioni. L'indagine del Censit attesta un dato del 56,8%. E di furti si parla anche all'interno del Corriere Adriatico, dove si dà conto del furto compiuto da tre giovani che nell'agosto scorso rubarono una moto nel cellulare. Gli inquirenti hanno scoperto le foto di altri furti, sono finiti a processo ragazzi dai 18 ai 24 anni, chiesti nove mesi di carcere. Fu all'epoca un poliziotto in pensione dal terrazzo ad allertare gli uomini delle forze dell'ordine. Aveva notato i giovani mentre spingevano il mezzo a mano. Proseguendo con il Corriere Adriatico e le notizie riportate nelle pagine pesaresi, il tema della scuola, il primo step verso la statalizzazione della scuola di infanzia di via Filzi in particolare. Il piano è stato presentato ieri in commissione. L'assessora Murgia rassicura insegnanti e genitori, continuità garantita. Assessora che ha rilevato come l'affrancamento personale consentirà di aumentare la dotazione dei posti nei nidi attualmente insufficienti. Il Comune, aggiunge il Sindaco Biancani, resta solo a fare la sua parte e garantire il servizio. Venendo invece al tema dell'adolescenza, l'inaugurazione di uno spazio dedicato per iniziativa dei Rotary Pesaro e International con il supporto di Don Fabbrini che ha messo a disposizione uno spazio dell'oratorio di Loreto per Snodo 1. Una risposta al forte disagio giovanile titola è la Corriere Adriatico. La pandemia è stata uno spartiacque, problemi in continua crescita è stato sottolineato in occasione della presentazione di questo nuovo sito. E poi la sanità con la notizia dell'addio del primario di chirurgia del San Salvatore e anche del Santa Croce. Patriti dirigerà la chirurgia complessa a Perugia, in carico dal primo dicembre nell'azienda ospedaliera Umbra. Patriti se ne va con due anni di anticipo, anche se si legge all'interno dell'articolo la voce che fosse prossimo ad abbandonare l'incarico si stava diffondendo ormai da un po'. Non si ferma così la fuga di professionisti dalla struttura di piazzale Cinelli. Osserva ancora il Corriere Adriatico. Mentre per quello che riguarda il resto del Carlino, sempre all'interno delle pagine dedicate al capoluogo, l'anticipazione degli stati generali del turismo e la Comune rilancia la sfida per la capitale europea. Sabato il tradizionale appuntamento, da un lato per fare il punto su Pesaro 2024, dall'altro per guardare verso il 2033 in funzione appunto della candidatura a capitale europea, candidatura congiunta con Urbino. Agli stati generali del turismo sarà presente anche il governatore Acquaroli. Sempre sul resto del Carlino anche la notizia dell'inaugurazione di un nuovo tempio buddista, il taglio del nastro con un matrimonio zen. Il tempio sorge in via Montegrappa dove si sono celebrate le nozze tra l'ex vigile urbano Giuliano Giulianelli e Maria Grazia Mortilla. Venendo invece al Corriere Adriatico, in particolare le pagine regionali, il punto sul processo che si sta celebrando in corte d'appello per il crack di Banca Marche, default Banca Marche, mezzo colpo di spugna. Titola il Corriere Adriatico in riferimento alle richieste del PM riguardo alla soluzione di quattro imputati su sei. Chiesta anche la riduzione di pena per gli ex manager Bianconi e Vallesi che in primo grado erano stati rispettivamente condannati a dieci anni e sei mesi e a nove anni, come si evince dalla tabella. Medio leasing mai dichiarata insolvente, per questo niente baccarotta. Un altro degli elementi riguardo alla requisitoria del PM, al cospetto della quale l'avvocatessa Formica, che è presente al dibattimento per conto di Adusbev, dice sono ottimista, la Corte non riformerà la sentenza. Adesso l'entroterra e in particolare la cronaca con il rave party organizzato a Sant'Anna del Furlo, rave party nella cava abbandonata, blitz dei carabinieri, 136 denunce. Al furlo dall'allarme il guardiano del parco per l'ordine pubblico interviene la questura. Partecipanti anche da fuori regione, dalle province di Ancona, Macerata e Fermo registra ancora il Corriere Adriatico che all'interno dell'articolo dà conto di presenze anche da Rimini, Bologna, Torino, L'Aquila, Pescara, Firenze e persino dalla Francia. Il racconto del controllore di cinghiali in azione sul parco del Furlo. Ho visto 100 auto e la cosa naturalmente all'uomo è suonata strana. Quanto invece alla sorte di Riccardo, il giovane di Furlo di Aqualagna, scomparso ormai da più di una settimana e il resto del Carlino ad approfondire mistero e speranze sul destino di Riccardo. Questo è il titolo. Le forze dell'ordine non escludono scenari diversi dal più tragico. Spunta una nuova segnalazione di avvistamento, questa volta da Bologna, sempre dalle pagine che il Carlino riserva all'entroterra. Le elezioni universitarie che si stanno per svolgere ad Urbino, si sfidano quattro liste, si vota oggi e domani per il Senato accademico e il Consiglio d'amministrazione dell'Ateneo. I cinque eletti saranno anche parte del Consiglio degli studenti. Le quattro liste sono azione universitaria, studenti fuorisede che chiedono l'istituzione del garante Agora che invoca un dialogo con Erdis sugli alloggi, Unione degli universitari che invoca una città più dinamica e Sum Uniurb che invece richiede più inclusività e benessere, bus per Pesaro fino alle 24. Ancora dal Corriere Adriatico, l'arte, il cortometraggio ambientato a Riceci, località venuta alla ribalta in questi mesi per il progetto di discarica, poi infine bocciato dalla provincia. Dolce attesa, si premia il corto sul caso di Riceci, l'ultimo lavoro del regista Antonio L'Aquidana, visibile su YouTube, scelto dal Fano Film Festival che tra l'altro si aprirà questa sera alle 20.30. Venendo invece al tema della sanità e alle preoccupazioni che si registrano nelle aree interne, da registrare il dialogo che si è aperto fra Salta Martini e il sindaco di Acqualagna Grassi. Da parte di quest'ultimo sollecitato in particolare un intervento per l'ospedale e per la casa di comunità. La nostra amministrazione è lontana dalle posizioni strumentali, lamenta Grassi che dice no ai campanilismi. Sempre in tema di sanità la presa di posizione del gruppo Fare Comune a Cagli, ambulanza senza il medico, così non va proprio bene. Osserva appunto il gruppo che si è costituito nella cittadina. Venendo invece al Corriere Adriatico e alla pagina dedicata a Durbino. Spazio alla crona che a quanto avvenuto a Dapecchio, località nella quale ormai da qualche tempo si registrano blitz ladrischi, svaliggiate nelle ultime ore due cassaforti e rubato oro per 10.000 euro. Nuovo raid dei ladri a Dapecchio, in tutto cinque colpi, due a segno, uno dei quali appunto ha fruttato il bottino da 10.000 euro e tre falliti. I malviventi acrobati e muniti di torce hanno agito anche con i proprietari in casa. Tornando invece nello specifico ad Urbino, la voce di Armando Torrico, esponente della sinistra, che contesta il provvedimento con cui l'amministrazione comunale ha proceduto alla surroga dei consiglieri reclutati all'interno della giunta, assessori surrogati. Era meglio risparmiare 186.000 euro, secondo Torrico, che rileva come il ruolo di consigliere non sia incompatibile con quello di assessore. E siamo così al termine di questo nuovo appuntamento con Occhio ai giornali. Come sempre grazie per essere stati con noi e continuate a farlo.